Carissime amiche ed amici, bentrovati e benvenuti sul canale. Oggi faremo una riflessione insieme, sempre sul caso di Alice Neri, partendo da alcune considerazioni. Innanzitutto, come ho detto anche per il video, per l'altro caso di cui trattiamo, c'è la speranza nella scienza rappresentata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, che con la sua esperienza, con la sua competenza, può portare parole di verità in questo caso. E dispiace che alcune parole di verità trovino sempre un muro di gomma in coloro che pensano di avere una verità già preconfezionata, che però non esiste. Ma permettetemi, prima di fare qualche riflessione al proposito, di dire alcune parole su un video che ieri ho visto su Radio 5.9, un video molto toccante, con l'intervista alla mamma di Alice, mi piace, veramente un video commovente, perché una mamma che racconta di come era sua figlia, sua figlia da bambina, sua figlia da adolescente, sua figlia da adulto. ne esce fuori un quadro veramente molto bello, molto umano e molto dignitoso soprattutto. Non sempre è facile sopravvivere a dolori così grandi come una morte di un figlio. Io credo che sia una morte innaturale sempre, perché un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli, perché nel processo biologico è più normale appunto che se ne vada un genitore prima di un figlio. ma soprattutto quando un figlio è strappato dalla vita da mani assassine in un modo così barbaro. Quindi un dolore molto composto, molto sentito. Veramente mi ha toccato profondamente. E quindi l'esigenza almeno di avere la verità, perché giustamente nessuno ridarà più, mai più, la figlia a chi ha la propria mamma e a tutti coloro che l'avevano voluta bene. Però l'unico modo per rendere giustizia è quello della verità. E quindi mi è dispiaciuto in un certo senso poi vedere alcuni commenti. Alcuni commenti che insomma vanno a fare riferimento a schieramenti di pensiero, come se in questo caso vi fosse chi la può pensare in un modo, chi la può pensare in un altro modo. Io penso invece che ci vedebbero uno sforzo comune in una sola direzione. Quindi, detto ciò, voglio fare anche un'altra riflessione appunto sul fatto che si sta sviluppando in questo caso qua, sotto anche i commenti, sotto il mio video, per quello che mi ripostano pure, con qualche screenshot in giro, una sorta di tifo da stadio. Quasi, come dire, un battere i piedi, gridando, no, ragione io. E quindi anche le evidenze scientifiche che arrivano sono interpretate in modo diverso. Siamo a volte un popolo strano, veramente strano perché in alcuni casi siamo garantisti all'eccesso, no? Come posso pensare a casa di Massimo Bossetti dove c'è un'abbondanza di DNA addirittura sugli slip della povera ragazza. E invece, in questo caso qui, tutti, tutti convinti, da maggior parte convinti che in carcere ci sia il colpevole, ma convinti oggettivamente da elementi che sono labili, sono elementi non confermati da nulla. E tutte le risultanze che, scientifiche, ma anche ultime evidenziate dalla Cattanea, come la probabile morte per la coltellata, insomma, si fa in modo che venga ricondotta sempre a questo personaggio. Quindi, io vorrei che si evitasse tutto ciò, mi dovete credere, vorrei che si evitasse, perché è diventata una sorta di seduta psicoterapeutica, quella dei commenti da tifo. Gente che si straccia le vesti, vorrei sapere il nome di cosa. Solo perché qualcuno dice, allarghiamo le indagini, e se si dice, allarghiamo le indagini, è proprio perché stanno venendo fuori degli elementi che non portano a nulla. Stanno venendo fuori degli elementi che inducono al dubbio. Sicuramente, se si pensa a una morte avvenuta con delle coltellate, non si può non evidenziare come ci sia qualcosa di strano, ci sia qualcosa che ti conduce ad altri scenari, scenari di odio, di rabbia, di rancore. Com'è possibile pensare che questo momento Galul sia in macchina con lei per oltre un'ora, dopodiché, senza che conoscesse la vittima, in un certo qual modo, la ammazzi in una maniera così violenta. e la scena del crimine ci parla anche di probabile omicidio fuori dall'autovettura, una sorta di estremo tentativo di fuga. Ci parla, la scena del crimine ci parla di qualcosa di terribile, di una fuga, di una spallina saltata. ci potrebbero che tutti insieme tutti insieme rimassimo nella stessa direzione, ma mi rendo conto che ciò non è possibile. Non è possibile perché ognuno tende ad avere ragione, vedete? È veramente un fenomeno da studiare questo, sicuramente. Ad esempio, quando si dà la notizia che il consulente di Nicholas, la dottoressa Sartori, trova dei pezzi riconducibili a un cellulare, quindi in macchina a un cellulare di Alice, c'è chi che si risente di questa cosa e dice ma no, ma non è sicuro che che è un cellulare, ma no, non è stato ancora confermato, come se si avesse la sensazione che questo tipo di scoperta portasse acqua al mulino di una tesi piuttosto che al mulino di un'altra tesi, come pure non sono ancora state confermate le coltellate, è solo un'ipotesi della dottoressa Cattaneo, ma non è detto che sia così. Perché si agisce in questo modo? E siamo sicuri che verranno fuori ancora altre novità. Ci sono delle indiscrezioni in merito, allora a cosa noi dobbiamo assistere ancora? Possibile mai che quasi si fanno queste contrapposizioni che non hanno raggiunto essere? la procura fa il suo lavoro certamente però gli elementi che escono fuori dicono che ci può essere dell'altro ci può essere dell'altro perché è vero che da un lato ci sta la tragedia di di una ragazza uccisa in modo così terribile però dall'altro ci sta dall'altro piatto della bilancia ci sta l'esigenza di cercare la verità e tutto quello che è accaduto quella notte vedete non è per niente chiaro non è per niente chiaro e quello che è accaduto in quella notte è figlio di una situazione precedente quello che è accaduto in quella notte non può essere qualcosa di estemporaneo è collegato alla a ciò che è accaduto magari il giorno prima i giorni prima quel giorno stesso non possiamo considerare che arriva una persona dal nulla e fa questo scempio e se ne va giusto per allora bisogna inquadrare per forza che bisogna inquadrare la vicenda in un quadro così più più generale quindi spiegarci cosa può essere accaduto non è normale che ecco già quelle sette ore allo smart caffè non è normale poter credere che abbia parlato per sette ore con i cucui soltanto dei processi lavorativi che si svolgevano alla vama deve aver parlato anche di ciò che la tormentava di qualche disagio e poi cosa succede che nel cuore della notte arriva questo tunisino e dovrebbe fare questo scempio e allora quando qualcuno si fa delle domande su ciò che è capitato credo che sia legittimo perché nella vita di questa ragazza ci stavano delle delle situazioni certamente molto preoccupanti lei viveva una situazione sappiamo di disagio nel suo percorso di vita diciamo forse di evoluzione e all'improvviso una mano assassina esompe esompe quella notte e cancella questa vita possibile mai che bisogna credere che è successo qualcosa di completamente estemporaneo non collegato a questo disagio a queste esperienze a questi comportamenti dei mesi dei giorni delle settimane o delle ore precedenti e se qualcuno ne parla compie quasi un reato dell'esa maestà ma vedete se veramente stiamo arrivando alla follia c'è chi fa ipotesi alternative dicendo vediamo che nella vita di questa ragazza c'era una situazione particolare in cui magari c'erano altri personaggi che altri personaggi che sono talmente tutelati da non poter nemmeno nominarli è in dubbio che ci stava un rapporto di tipo particolare con un collega che pesantemente ingeriva nella sua nella sua vita ne abbiamo visto i regali le lettere le parole e non se ne può parlare cioè possibile mai io a me hanno detto che ci sono delle polemiche feroci su altri canali soltanto se si mette nella ipotesi l'idea di poter indagare su una persona che compulsava in modo così pesantemente nella vita di Alice ma possibile mai che si può arrivare a questo non se ne può dire nemmeno il nome una reticenza incredibile e questo sempre nella chiarezza non si può dire nemmeno vediamo quell'altro Mohammed il marocchino con il quale si vide nel pomeriggio quando è andata via quando è andato via perché è andato via veramente subito dopo se è andato in Marocco no quello non c'entra niente va bene le macchine che seguivano lì a via Mazzalupi non c'entra niente come è possibile come è possibile essere in un'Italia in un'Italia diciamo che la parte del diritto dire scrivere eh ma questo tunisino non ha dato la prova della della sua innocenza come se qualcuno dovesse dimostrare la sua innocenza e non che qualcuno dovesse dimostrare la sua colpevolezza e se e se ad esempio io pongo in evidenza alcune cose si viene additati quasi come voler difendere la posizione di di un indagato di di si dice di un assassino possibile mai è inutile io non voglio ripetermi per dire tutte le cose che assolutamente non collocano in maniera certa questo tunisino sulla scena del crimine però io dico vediamo altro possibile mai che tutti i dubbi emersi nei confronti di altri soggetti di questo soggetto in particolare cosiddetto terzo uomo non se ne possa parlare non se ne parli più una sorta di omestà ma ma dove siamo arrivati ma dove siamo arrivati possibile mai una cosa del genere e quello che sta emergendo come ad esempio il fatto dell'incendio attivato con la benzina no la benzina forse il galore l'aveva trovato insieme all'olio e sausto ha trovato pure la benzina e magari ha trovato pure un bel coltello possibile una cosa del genere io rimango veramente basito credetemi le contraddizioni di altre persone implicate nessuno le le vede nessuno le nota nessuno le può dire incredibile ciò che sta avvenendo in questo caso non mi era mai mai capitato eppure siamo di fronte a delle incestezze delle grandi incestezze perfino sull'orario dell'incendio che sembra alcuni dicono la mattina ma potrebbe essere sicuramente anche il pomeriggio e quindi si dovrebbero riconsiderare gli alibi di un po' di tutti se l'incendio fosse scaturito nel pomeriggio quindi ridisegnando una scena delle crimine in cui la macchina viene nascosta quella mattina e poi messa lì è data alle fiamme anche questa è un'altra scena però niente si tende a stendere un velo e la mia coscienza vedete si ribella tutto ciò si ribella tutto ciò perché ovviamente io mi ritengo una persona di di onestà intellettuale e quindi io non posso non posso non vedere le centinaia dei centinaia di dubbi che si sollevano e per questo caso qui assolutamente non ci sono elementi per non parlare d'altro non ci sono elementi per per additare una persona in modo certo alle sue responsabilità magari io ho sperato ho sperato veramente che dagli incidenti probatori venisse fuori qualcosa di di definitivo che messe fuori messe fuori tracce di sangue messe fuori eh qualcosa che implicasse in maniera definitiva questo tunisino nella nella vicenda sono venuti fuori dei dati che sono molto labili degli indizi che non rappresentano nulla e il vero pericolo ve l'ho detto già altre volte che è quello di consegnare alla storia una vicenda senza colpevoli perché se ci si interessardisce a non voler vedere altro e non capisco come si faccia non vedere altro non capisco come si faccia non vedere altro e allora si andrà comunque in tutti i casi anche se la dottoressa Cattaneo magari poi ai inizi di settembre depositerà tutto e quindi configura una scena del crimine feroce con assalto eccetera eccetera comunque in tutti i casi si dirà no andiamo andiamo a processo contro questo tunisino bene ma almeno per quello che si sa nessun tribunale al mondo nelmeno nel Burundi nelmeno nel Congo potrà mai condannare secondo questi elementi si dice forse la procura avrà in mano altre cose può essere può essere per carità anzi io me lo auguro che sia che sia così io parlo per quello per quello che si riesce a sapere però mai vi ripeto mai mi era capitato nella mia esperienza eppure sono diversi anni che mi occupo di questi casi che ci fosse ci fossero delle persone così pesantemente coinvolte nella nella vita della vittima e che le stesse non non siano nemmeno indagate e è nulla è nulla quindi non so non so veramente non so cosa dire in questi giorni ci sarà un nuovo accesso alla autovettura perché è stato richiesto e può darsi che ancora si trovi qualcos'altro qualche elemento speriamo si sta disegnando veramente un un quadro un quadro davvero importante che che posta che posta diciamo al mio modo di vedere ad un omicidio premeditato premeditato e quindi bisogna scoprire questa premeditazione da quale mente folle folle sia stata determinata quindi concludo dicendo fatemi sapere cosa ne pensate io ovviamente sono aperto a tutti i tipi di confronti ovviamente lo sapete c'è un limite della cosettezza diciamo anche nelle opinioni contrarie che si hanno e potete sapere cosa ne pensate effettivamente se è possibile che per alcuni casi c'è un'Italia garantista anche forse al di là di ogni ragionevolezza pure ho detto il caso di Bossetti ma anche nel caso di Rosa e Olinda per la strage di erba dove addirittura si dice dopo quelle confessioni invidio si dice no ma quelle sono state in qualche modo condizionate cioè addirittura contro delle confessioni fatte per tanto tempo si è garantissi all'eccesso in questo caso c'è una fetta dell'opinione pubblica ma veramente ma veramente incredibile cioè che davanti a tutti questi elementi di dubbio che ne sono più di cento si esprime con un livore con un astio come se ci fosse qualcuno che vuole una giustizia e altri che la giustizia non la vogliano possibile mai che non ci si rende conto che questo è un caso veramente difficile di difficile soluzione perché elementi oggettivi di colpa verso questa persona che sta in carcere non ce ne sono ci sono degli indizi ma prove assolutamente non ce ne sono e dall'altro lato della bilancia non si indaga su altre almeno a livello ufficiale io mi auguro che invece la procura in silenzio senza emettere avvisi di garanzia sicuramente stia indagando perché non voglio credere non voglio credere che si sia effettivamente ascriviata la posizione del terzo uomo o di altri soggetti io credo che le indagini nel silenzio continuino e quindi io mi aspetto anche dei colpi di scena ma veramente veramente scherziamo i colpi di scena ci devono stare perché gli elementi che stanno emergendo portano a un delitto di tipo passionale di tipo rancoroso di tipo di amore malato qualcosa del genere ma sicuramente qualcosa deve essere successo ma veramente di di articolato non può non può assolutamente trattarsi per come degli elementi che ci sono di così un delitto estemporaneo dovuto per per un approccio magari sessuale rifiutato io non credo a questo tutto ciò che emerge non non depone per questa versione quindi aspettiamo che nei prossimi giorni ci siano ulteriori elementi e quindi il mio auspicio è che ci sia più serenità c'è più apertura mentale di non escludere ipotesi altre ipotesi altri coinvolgimenti non escludere perché la verità vedete non ha bandiere non ha schieramenti ma veramente non ha schieramenti e speriamo che questo appello diciamo non cada totalmente nel vuoto grazie amici miei grazie amiche miei buona giornata e ci sentiamo presto un abbraccio a tutti un buon di voi grazie a tutti grazie a tutti